SIGLA Ok, facciamo il nuovo video, allora, bomba, molti giocatori, si parte in attacco Andiamo allora, casuale, e usiamo toucher oggi in attacco con, poi un po' no, quale delle due? Proviamo questo, col reflex, prima l'R, si dai, claymore, ok vai, si fa bene Dobbiamo individuare una bomba Andiamo a guidare un po', credo, paura Saranno di sopra o di sotto Guarda che sono di sotto 10 secondi all'inserimento 5 secondi all'inserimento Oh che palle Dovete trovare e disinnescare una bomba Un po' Un po' Un po' Sì, però non ti puoi mettere così davanti la gallo, così No Non è più il disinnescatore Farmiamoci Aia Che botta No stavo andando anche bene Un bel muro in cartongesso Abbiamo il disinnescatore Ho un voto eh Mabbè che palle Avevo un po' di mira Potevo ucciderlo con lei Uso un drone Contatto nemico Che bella Attaccante neutralizzato Cati Ce li ha fatti tutti e due così Madonna Erano quei due che ero prima Quei ero prima Vabbè Sempre touch Appendiamoci ragazzi Come individuare una bomba Adesso Trovare le scale Attenzione il drone è alleato Ha trovato una bomba Inserimento tra 10 secondi 5 secondi agli inserimento Raggiungete la bomba e disinnescatela Occhi aperti per il nemico Vabbè Ero entrato Ma che belli Perché sono da solo Comunque Ok La squadra d'attacco ha eliminato i difensori Bello dai È stato facile Surround Ok difesa Usiamo invece Sempre il secondo Andiamo via via così E usiamo il mute Non mi venia più il nome Confirmo dotazione perché l'avevo già messo a posto Ovviamente sempre il reflux Difendete l'area e proteggete le bombe Ok Ok Occhio la posizione di una bomba è compromessa Ma la secce è bellezza ho rimediato un drone Te ti metti davanti anche te però Si Forse è un po' sbagliato Il drone nemico è stato in posizione per la scansione Avvio il jabber No dai Mentre cadevo Un operatore alleato rimasto Ultimo attaccante rimasto in vita La squadra d'attacco disarma una bomba Disattivate il disinnescatore Disinnescatore individuato Disattivatelo Dai credente a cavera Avete disabilitato il disinnescatore Ottimo lavoro Missione compiuta Bello Dai, dobbiamo vincere anche questo Allora, dai Sviggia questo Così Scrivevo da pulitissimo Sempre Mimut Ehm Nitro c'è La mappa qua non serve a niente Scemo Il mio ordine è attivo Dispositivo attivato La squadra d'attacco ha trovato una bomba Proteggetela Siamo in 10 secondi Restano 5 secondi Ok Faccio un po' di punti Prepararsi all'ingaggio Drono del muro è in corto Drono nemico in posizione per la scansione Avvio del timer Sei stato scoperto Hanno trovato una bomba Sapete cosa fare Uh, ballo sto adshot Nuovo caricatore Ho sbagliato Scansione nemica in arrivo Avvio del timer Balle Abbiamo preso anche l'assist Sono primo Ah cavolo Vabbè Non abbiamo vincerelo questo Non l'abbiamo perso Match point supplementario Se parliamo Abbiamo perso proprio Tutta la partita E Non va mica tanto bene Quindi Impegniamoci Mi raccomando Difendete l'area E proteggete le bombe Io Devo Vi posso Posso essere Sincero Non ho ancora capito cosa serve Questo che ho appena messo Sono sincero con voi Inizio Eh vabbè dai Che c'è? Che c'è? Ata c'è in tà c'è? eh non ci vedo niente vittoria alla difesa ho preso quattro assist tre assist in una partita eh neanche una chi si trova bene così è ben vinto quindi noi ci possiamo lasciare qui vittoria su offerta abbastanza primo per una volta per una volta primo andiamo se posso vedere la 24 si non si può andare a fare le classificate pacchetti me lo dai ci prego e dammi sto pacchetto cioè al 50% tra un po' mamma mia vabbè noi ci salutiamo e adios grazie a tutti Grazie a tutti.